Per me il servizio civile è far parte di qualcosa, far parte di una comunità. Un'opportunità di formarmi ed è una crescita personale. Mi dà l'opportunità di sperimentarmi in cose che non ho mai fatto. È un momento di crescita e formazione personale. Con il Covid ho dovuto cambiare sede e progetto e adesso mi trovo qua alla croce blu di Modena. Diciamo che la parte più interessante della biblioteca è il confronto e il rapporto con l'utenza, che al momento non può esserci. E non potendo comunicare con l'utente in questo momento è molto complicato, però cerchiamo comunque di fare il possibile. Ho dovuto cambiare sede, ho dovuto cambiare progetto e nonostante tutto questa nuova esperienza mi piace. Ci vorrà ancora un po' per tornare alla normalità. Sì, consiglierei questa esperienza soprattutto per crescere e fare nuove esperienze. È un'esperienza che ti porta a crescere. Consiglierei il servizio civile perché è un'opportunità per mettersi alla prova e conoscere gente nuova ed essere utili per la comunità. È il momento per crescere. Sì, è un'esperienza che ti porta a crescere.